Domani l'andata degli ottavi di Champions tra Atletico Madrid e Juventus. Solo due i precedenti in Champions con una vittoria degli Spagnoli e un pareggio. La Roma resta in corsa per il quarto posto ma la vittoria di ieri col Bologna è stata molto faticosa. Di Francesco non si esalta. Non mi piace vincere così ha detto. Altra grave sconfitta per il Chelsea di Sarri in FA Cup contro il Manchester United. Il tecnico contestato dai tifosi dice sono preoccupato per i risultati. I giocatori ancora non mi capiscono. Buonasera a tutti. Ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. La Champions League in primo piano con la grande sfida tra Atletico Madrid e Juventus in programma domani sera. Lorenzo Di Benedetto buonasera. Buonasera Lorenzo e buonasera a tutti. Saluto anche a Revolto Magistris. Ciao Lorenzo buonasera. Quanto valgono i numeri se è vero che con Simeone in panchina l'Atletico Madrid non ha mai perso contro le italiane in Champions League. Il bilancio è di 4 vittorie e 2 pareggi per l'Atletico Madrid. Beh secondo me non valgono troppo nel senso che questa Juve arriva comunque favorita alla doppia sfida con l'Atletico Madrid. Poi il match di domani sarà sicuramente una gara equilibrata e siamo qui a ripeterci da giorni o meglio dal sorteggio che questo è il sorteggio peggiore possibile perché la Juventus è passata come prima ed evidentemente sulla carta nei bussolotti c'erano sicuramente squadre più abbordabili. Però se la Juventus pensa come pensa quest'anno come mai nel recente passato che può vincere questa Champions che quest'anno è un obiettivo davvero perseguibile perché non è inferiore alle grandi favorite non può certamente pensare di fermarsi agli ottavi. Fermarsi dinanzi ad un Atletico Madrid che negli ultimi anni ha fatto molto bene che però quest'anno secondo me non sta attraversando la sua stagione migliore anche gli ultimi risultati. È tornata la vittoria nell'ultimo turno di campionato dopo due passi falsi consecutivi dopo la sconfitta nel derby di Madrid piuttosto netta con Reale. Insomma non è l'Atletico migliore possibile. È una squadra che sta ritrovando la condizione ma non è all'altezza secondo me anche fisicamente di questa Juventus che arriva molto bene a questo primo confronto contro i Colcioneros e che quindi parte da favorita nonostante un Atletico Madrid che resta comunque una delle grandi d'Europa in questi anni. Ecco sempre intanto vediamo anche le dichiarazioni di Forlan, Juve forte ma passa l'Atletico, Griezmann fa la differenza dice l'ex calciatore dell'Inter vedremo in effetti comunque Griezmann è chiaro che sarà uno degli osservati speciali di questa partita sempre restando sui numeri Cristiano Ronaldo in Champions League ha segnato soltanto un gol nelle ultime otto partite ci sarà la voglia di incidere da parte del portoghese sarà interessante vedere anche come sarà accolto dal pubblico dell'Atletico Madrid. Difficile aspettarti insomma un applauso per Cristiano Ronaldo anche per chiaramente il suo passato al Real ma perché di fatto è il giocatore più pericoloso della Juventus e sappiamo come vengono accolti i giocatori più forti sarà probabilmente lo stesso per Griezmann nella gara di ritorno a Torino anche se non ha un passato nel Torino giusto per chiudere il discorso. È una Juventus che dovrà puntare su Cristiano Ronaldo lo ha preso apposta durante l'estate per arrivare ad alzare questa benedetta Champions League che manca dal 96 nella bacheca della Juventus ha fatto un solo gol, ha ragione, però abbiamo visto l'anno scorso come è andata girone stratosferico di Cristiano Ronaldo in Champions League quarto di finale di andata stratosferico a Torino contro la Juventus poi da quel momento in poi si è fermato Cristiano Ronaldo ha sì realizzato il rigore contro la Juventus che poi ha permesso al Real di approdare in semifinale però è stato un Cristiano Ronaldo che nel doppio confronto col Bayern e anche nella finalissima con il Liverpool non è stato all'altezza del suo nome e delle sue prestazioni quindi diciamo che la Juventus spera che possa fare il contrario quest'anno Cristiano Ronaldo ovvero è partito come peggio non avrebbe potuto anche a causa degli errori arbitrali comunque l'espulsione a Valencia alla prima partita squalifica nella seconda contro i Young Boys poi poco e niente, il gol è vero, bellissimo, fantastico contro il Manchester United all'Allianz Stadium però non è stato un Cristiano Ronaldo straripante in Champions League deve cambiare passo sicuramente lo cambierà, la Juventus deve puntare su di lui però io credo che contro l'Atletico Madrid sarà dura per la Juventus Stiamo ora anche al punto della situazione dal nostro inviato a Madrid, Ivan Cardia Buonasera Lorenzo, siamo a Madrid, posizione elevata su una delle principali piazze della città posizione elevata è quella che spera di ottenere la Juventus rispetto all'Atletico di Madrid Bianconeri e Roiki Blancos torneranno in campo gli uni contro gli altri a 4 anni dall'ultimo confronto allora era una doppia partita della fase a girone di Champions League questa volta sono ottavi di finale quindi in palio c'è la qualificazione è evidentemente l'eliminazione diretta dell'avversario in palio c'è il Vanda Metropolitano perché domani sera Juventus e Atletico Madrid andranno in campo nello stadio di casa dei Colcioneros ma poi ci vorranno tornare perché la finale di Champions League quest'anno si giocherà appunto al Vanda Metropolitano è un po' un primo atto per chi spera di tornarci ovviamente l'Atletico Madrid ha dà le sue motivazioni di vivere davanti al proprio pubblico la finale della competizione più ambita e più prestigiosa d'Europa la Juventus, non dobbiamo star qui a ricordarlo vive una ossessione Champions League e una voglia di vincere questa Coppa testimoniata anche dall'arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia Ronaldo che tornerà da avversario in uno stadio dove comunque è stato protagonista nella Liga la Juventus non vince contro Atletico Madrid dall'epoca della Coppa delle Fiere quindi c'è anche voglia di sfatare una statistica storica una statistica che affonda le sue radici nel tempo attesi circa 3.400 tifosi italiani molti sono già arrivati la maggior parte ovviamente arriverà domani per seguire Atletico Madrid e Juventus atto primo di un ottavo di finale tutto da seguire, a voi la linea Grande città Madrid, abbiamo visto qualche scorcio lo invidi un po' Ivan Cardia? ma no, ero un po' preoccupato anche per la situazione di equilibrio di Ivan durante il collegamento sì, lo invidio un po' insomma, Madrid è una delle città più belle più belle d'Europa è uno degli ottavi più significativi di questa Champions sicuramente tra i più equilibrati quindi un po' sì tra l'altro Atletico Madrid e Juventus si caratterizzano per essere dal punto di vista per le finali perse per le finali perse ma anche per essere dal punto di vista difensivo le migliori squadre degli ultimi anni i numeri alla mano e Godin e Chiellini sono chiaramente i due leader difensivi che hanno pochi rivali no, è vero, è vero questo è sicuramente un aspetto da sottolineare infatti mi aspetto non delle gare bellissime poi magari il campo ci smentirà sia il Vanna Metropolitano che l'Allianz Stadium ma mi aspetto due squadre che penseranno soprattutto a non prenderle poi la Juve di Allegri in realtà è molto brava in trasferta a trovare il gol lo dicono i numeri però Godin è da anni uno dei migliori centrali di difesa Jimenez è davvero un giocatore che sta crescendo molto bene al suo fianco Oblak un portiere stranamente sottovalutato ma uno dei migliori numeri uno al mondo dall'altro lato non c'è bisogno di presentazioni perché Chiellini, Bonucci li conosciamo tutti Cesni quest'anno sta sostituendo molto bene Gigi Buffon Cancelo uno dei migliori terzini d'Europa insomma è anche una grande Juve quindi le due difese sicuramente sono i punti di forza di due squadre che restano comunque molto forti perché Griezmann, Cristiano Ronaldo Pjanic, Saul Niguez insomma entrambe hanno poi anche dalla scintola in su tanti giocatori che possono fare la differenza Parlando invece dell'attacco dell'Atletico Madrid da Morata uno degli ex di turno c'è da aspettarsi qualcosa di particolare una prestazione ancora più motivata rispetto al solito? L'abbiamo conosciuto in Italia Morata che faceva fatica in campionato e però in Champions riusciva a dare il meglio di sé di fatto fu lui a trascinare la Juventus in finale nel 2015 poi finale persa contro il Barcellona segnò proprio a Madrid contro il Real il gol qualificazione che eliminò per l'ultima volta quella è stata l'ultima volta che i Blancos sono stati eliminati dalla Champions League quindi è un Morata che su questi palcoscenici si esalta sempre e l'ha voluto fortemente l'Atletico Madrid al Chelsea era finita la sua avventura si vuole confrontare con i Colcioneros e vuole dire la sua anche in Champions League poi dobbiamo anche pensare al patto dello spogliatoio dell'Atletico che c'è stato l'estate scorsa proprio in vista della finale al Vanda Metropolitano ovvero restiamo tutti per andare a prenderci questa coppa nel nostro stadio questa coppa che ci è sfuggita dalle mani in due occasioni sempre contro il Real Madrid quindi ci saranno tante tante motivazioni in tutta la rosa dell'Atletico che abbiamo parlato di Godin perderà Godin nella prossima stagione quindi questa è l'ultima stagione con il grande gruppo di Diego Pablo Simeone al completo Prima parlavamo di un Atletico Madrid non al top della condizione però sostiene Fabio Capello che proprio in queste condizioni Simeone riesce a trarre il massimo dalla sua squadra quindi ecco la Juventus non deve farsi probabilmente ingannare dallo stato di forma dell'Atletico Madrid Ma questo senza dubbio cioè il fatto che l'Atletico non arrivi al 100% a questa sfida vuol dire che la Juve possa pensare di sottovalutare questo impegno ma la Juve è una squadra troppo matura ed esperta per sapere che la gara sarà comunque difficile resta però un vantaggio cioè se l'Atletico non arriva al meglio a questo doppio confronto se Diego Costa che non dovrebbe partire dall'inizio si è rivisto in campo nell'ultimo match di campionato solo per mezz'ora non è al 100% e questo per la Juventus è sicuramente un vantaggio che non vuol dire andare lì e sottovalutare l'Atletico Madrid sarebbe da sciocchi e la Juventus non è certamente sciocca però vuol dire affrontare un Atletico Madrid che rispetto agli ultimi anni secondo me non è la stessa squadra non ha la stessa forza poi è una squadra esperta che sa come affrontare questa competizione e giustamente Lorenzo stottolineava un aspetto fondamentale la finale in casa che dà ulteriori motivazioni all'Atletico Madrid però questa Juve vuole vincere la Champions e quest'anno sa di doverla vincere sa di poterla vincere con Cristiano Ronaldo e quindi secondo me questi sono tutti elementi che la Juve può bypassare e può superare per arrivare fino all'atto conclusivo parliamo adesso della Roma che ieri contro il Bologna ha vinto ma lo ha fatto con fatica con estrema fatica francamente il Bologna per le occasioni che ha saputo creare non meritava assolutamente di perdere anche di Francesco insomma ha riconosciuto i meriti della squadra di Mikhailovich sì sicuramente bisogna fare un applauso a Mikhailovich per ciò che ha fatto nelle prime tre settimane a Bologna perché ha veramente cambiato volto alla squadra ma ha cambiato la testa dei giocatori che adesso vanno a giocarsi le partite contro chiunque hanno vinto a San Siro ieri non meritavano assolutamente la sconfitta tantissime occasioni è chiaro che quando il migliore in campo è il portiere della Roma significa che il Bologna ha fatto ha fatto veramente tanto e bene ha parlato esempio di Francesco anche dopo la partita ha detto non mi piace vincere così invece secondo me il tecnico della Roma dovrebbe essere molto contento di aver vinto una partita del genere perché abbiamo sempre detto che la Roma come altre squadre in lotta per il quarto posto non riusciva a vincere le partite sporche invece ieri ce l'ha fatta e come a vincere una partita che non meritava sul campo l'ha cambiata il Sharawi la partita non era il meglio ma entrando nel secondo tempo ha dato proprio una spinta diversa ai giallorossi resta però il fatto che il Bologna adesso io credo sia la favorita per salvarsi perché ha cambiato veramente marcia e Mihailovic è stato bravissimo a premere sui tasti giusti nella testa dei suoi giocatori restano in effetti questi tre punti pesanti per la Roma una Roma che adesso tallona il Milan al quarto posto una Roma che da un paio di mesi a questa parte in campionato ha intrapreso un buon cammino vedendola giocare magari non convince sempre perché comunque anche proprio dal punto di vista dello sviluppo del gioco non è così brillante non riesce a convincere fino in fondo sì questo credo sia l'aspetto più preoccupante soprattutto se è relazionato al gioco del Milan dell'ultimo mese perché il Milan in questa fase mi sembrano a squadra che letto dei risultati positivi ma sono positivi anche quelli della Roma giochi meglio rispetto alla Roma cioè se confrontiamo la Roma di ieri e il Milan visto a Bergamo a me il Milan sembra adesso ad oggi una squadra superiore a questa Roma e quindi alla lunga sappiamo poi quanto il gioco e una competizione come il campionato faccia la differenza vorrei sottolineare però come ha fatto Lorenzo anche il ruolo di il Charau in questa Roma in questo campionato perché mai come quest'anno in campionato in Serie A un po' come Dzeko in Champions League e il Charau in campionato mi sembra il vero trascinatore di questa Roma cosa che non era mai avvenuta nelle passate stagioni perché parlavamo sempre di un ragazzo molto talentuoso ma discontinuo invece quest'anno il Charau si sta imponendo con continuità e sta tirando fuori la Roma da tante situazioni difficili in Ombria invece Florenzi che è uscito anche tra i fischi è un periodo difficile per questo giocatore sì un classico caso romano mi verrebbe da dire perché a volte a Roma ci si impunta tanto forse troppo in alcuni casi nei confronti di giocatori che poi come Florenzi hanno dato tanto tutto nei confronti di questa maglia e insomma a Florenzi viene criticato il suo atteggiamento in campo non essere andato a volte sotto la curva alla vicenda rinnovo del contratto ma chi non chiede tanti soldi al momento del rinnovo del contratto anche i totti all'epoca quando siglò il grande contratto ti ricorderai Lorenzo con la Roma per aver rifiutato il Real Madrid pretese ottenne un ingaggio molto importante per distacco quello più importante in casa Roma e anche Florenzi ha fatto così lo fanno un po' tutti però poi l'importante è la sostanza Florenzi è rimasto a Roma è ancora un giocatore della Roma è un simbolo della Roma quindi secondo me la curva e i tifosi in generale dovrebbero coccolarlo anche perché sta attraversando un momento difficile anche tatticamente si parla sempre di un Florenzi molto polivalente in mezzo al campo però questo forse l'ha penalizzato perché è un giocatore che può giocare bene ovunque ma benissimo da nessuna parte e quindi questo può essere un limite può essere un limite dicevamo poco fa e mi rivolgo a Lorenzo di Benedetto della prova eccezionale da parte di Olsen voto 8 per lui insomma se la Roma ha conquistato tre punti lo deve anche al suo portiere che tra l'altro rientrava al posto di Mirante che lo aveva sostituito nelle ultime partite un Olsen assolutamente convincente e protagonista anche di parate difficili sì lo abbiamo abbiamo criticato a volte l'operato di Monci sul mercato soprattutto a inizio stagione poi alla fine negli ultimi mesi stanno venendo fuori i colpi di Monci il primo è chiaramente Zaniolo il secondo è Olsen perché comunque si ha venduto il miglior portiere della Serie A dell'anno scorso ovvero Allison ma ha trovato un portiere che sta facendo vedere grandissime cose e dà sicurezza a tutto il reparto perché comunque ci ricordiamo veramente poche sbavature me ne ricordo una all'Olimpico contro il Genoa con il gol di Piontek proprio sulla linea con una papera di Olsen però sono molte più le partite decise in positivo dal portiere svedese che è arrivato in punta di piedi però piano piano partita dopo partita sta diventando sempre più decisivo e chissà che non possa esserlo ancora di più nel finire della stagione con la Roma che ha sicuramente bisogno della solidità difensiva abbiamo citato Olsen anche Manolas ieri ha fatto una partita molto molto positiva Fazio si è salvato col gol perché diciamo che i voti si sono alzati grazie alla rete mentre Manolas ha fatto veramente stato un muro nella difesa della Roma insieme a Olsen comunque la Roma ha avuto solidità difensiva anche con un Bologna che comunque ha avuto tante occasioni da gol parliamo adesso di Sarri e del suo Chelsea che è andato incontro ad una nuova grave sconfitta in FA Cup contro il Manchester United a questo punto visto il difficile periodo che sta attraversando il tecnico ex Napoli c'è da chiedersi se possa arrivare alla fine della stagione domanda domanda complessa a me sembra che lo spogliatoio da un po' di tempo abbia iniziato a boicottare Maurizio Sarri cioè mi sembra questo è un Chelsea che giochi contro il suo allenatore perché è impossibile vedere una trasformazione così radicale e trovare una spiegazione solo in un'involuzione tattica cioè questo è un Chelsea che a inizio stagione è partito fortissimo con gli stessi giocatori di adesso anzi a gennaio il Chelsea si è anche rinforzato è andato via a Morata per far spazio a Gonzalo Higuain poi i giocatori sono gli stessi ma la Sarda che vediamo oggi non è lo stesso di settembre non è nemmeno un lontano parente anche a centrocampo Giorginio si è completamente involuto questa staffetta Kovacic-Barkley non sta portando da nessuna parte Kanté fuori ruolo mi sembra un po' l'emblema di questo Chelsea ma non è affatto il giocatore che faceva la differenza all'Ester lo trascinò addirittura fino al titolo di Premier ma che faceva molto bene anche nel Chelsea di Antonio Conte insomma è un Chelsea che non funziona e che mi sembra stia giocando contro il suo allenatore e a queste condizioni le sono era quasi inevitabile adesso sentiamo su Sarri e sul Chelsea il punto di vista anche da parte di Gianni Di Marzio che è intervenuto ad RMC Sport mentre Guardiola è riuscito già nel passato a vincere qualche cosa ha vinto più di tutti di tutti e di più non sappiamo più che cosa ha vinto e quando vado su Google e mi scrivo delle robe non riesco più a capire niente ha vinto di tutti Supercoppa Coppa Mondiale cose incredibili Sarri allenato in Italia in una maniera abbastanza mettendo i giocatori in condizioni di gioia in una maniera scolastica e anche sennaturando quello che era la loro fantasia la loro inventiva circolazione di palla destra-sinistra sinistra-destra linea difensiva molto alta non se letta vien dalla campagna in giù poi l'imbucata finale e si va a re e l'Inghilterra ha trovato i giocatori di grande qualità che ci vogliono evidenziare ognuno di loro quello è un prodotto il giocatore è un prodotto che lui lo vuole vendere uno rappresenta lo vuole vendere e quello vuole guadagnare di più per l'anno successivo quindi se tu gli togli la fantasia a uno di questi campioni da Williams a Vagli poi onestamente non riesco ad esprimersi secondo quello che sono diciamo la loro natura e le loro aspettative Sarri ha detto anche tra le altre cose che i giocatori non mi capiscono ma allora questo come va valutato alla luce del fatto che comunque all'inizio della stagione le cose andavano tutto sommato bene non so io sono d'accordo con Raimondo che sicuramente lo spogliatoio in questo momento non è almeno diciamo che non è al 100% alla parte di Sarri e quindi questo è un grosso problema perché è vero un giocatore può non capire ma un giocatore può anche non voler capire ciò che Sarri cerca di insegnare cerca di impartire in base insomma alle sue lezioni sul campo quindi deve provare secondo me Sarri a cambiare qualcosa in modo anche da stimolare i suoi giocatori cosa è successo praticamente tutto il gioco del Chelsea passava dai piedi di Giorginio voluto fortemente da Sarri la scorsa estate adesso Giorginio è marcato a uomo tutte le domeniche da un giocatore e quindi di fatto si esaurisce lì il gioco del Chelsea di Maurizio Sarri deve cambiare qualcosa perché così rischia veramente di non arrivare alla fine della stagione grazie Lorenzo Di Benedetto e Ramondo De Magistris grazie a tutti voi per averci seguito buona serata grazie a tutti